ma si il post partita facciamolo con la coperta ma che ce frega ma dato il problema non sarò tipo io che faccio il post partita con la coperta tra l'altro ho deciso di mettere le luci più o meno dello stesso colore in cui è il cagliari credo che rendano più o meno quella che sia la situazione del del cagliari il problema è che io adesso precisamente cosa dovrei raccontare perché io ve lo dico sinceramente la partita l'ho vista ma mi sono rotto le palle cioè noiosa noiosa lasciando il fatto che abbiamo perso e che madonna mia qua ceppitelli che cazzo ho combinato non ci sono spunti non c'è veramente nessuno spunto da poter utilizzare per creare un discorso nulla nisba zero niente di niente e abbiamo finito il girone di andata con una sola vittoria bene direi bene sì sì decisamente bene che tocca fa ragazzi che tocca fa io veramente non so cosa dire tra l'altro aspettatevi a breve una live perché voglio condividere con voi questo dramma come giusto che sia viviamo insieme questo dramma tanto già sappiamo la categoria in cui giocheremo l'anno prossimo tra l'altro se ci purga sempre Bernardeschi vuol dire che questa è una giustizia divina e che forse un po' ce lo meritavamo prendiamola sul ridere perché tanto ormai io personalmente non so voi ma non riesco nemmeno più ad incazzarmi non non ce la faccio cioè non riesco proprio e non so se sia un bene o un male probabilmente la seconda però ormai quest'anno è così per carità sempre forse a Cagliari la categoria conta quanto può contare però andare in giro a fare queste figure di merda sinceramente io preferirei evitarlo quindi questo è il giro a vedere il giro a fare queste figure di merda